Al via sul portale delle poste alla prenotazione dei vaccini anti-covid per i 50 anni abruzzesi. Potranno iscriversi alla piattaforma Inati dal 1962 al 1971. Il portale è accessibile anche attraverso il sito della regione Abruzzo. Le prime somministrazioni sono previste in tempi record già a partire tra dieci giorni, il 20 maggio. Con ogni probabilità sarà una corsa alle prenotazioni, anche se bisognerà prima chiudere le categorie dei sessantenni e settantenni. Sì, è iniziata oggi l'iscrizione alla piattaforma per gli over 50. È chiaro che sarà un inizio graduale perché dobbiamo ancora completare le altre categorie, in particolare gli over 80 e comunque gli over 70. Però da oggi inizia in tutta la regione l'iscrizione alla piattaforma degli over 50 e dal 20 maggio inizierà la prima somministrazione. Per cui insomma un altro passo avanti compie la nostra regione che in questo momento si sta ben comportando. Siamo a due punti circa sopra la media nazionale e l'assessore Veri, seguendo un po' quelle che erano le disposizioni date dal commissario Figliuolo, ha dato seguito e quindi anche gli over 50 in Abruzzo si potranno vaccinare. Sul fronte delle scorte dei vaccini a livello nazionale ci sono alcune regioni che hanno annunciato di avere problemi, mentre per la nostra regione la situazione al momento risulta essere sotto controllo. Noi in questo momento questo problema non ce l'abbiamo, seppure dobbiamo avere maggiori garanzie per quanto riguarda AstraZeneca. Ma questo l'abbiamo sottolineato, l'ha sottolineato l'assessore Veri, il presidente Marsiglio, al commissario Figliuolo nella visita di qualche giorno fa. Quindi insomma andiamo avanti con le vaccinazioni, sicuramente c'è una maggiore necessità di dosi, ma questo ripeto è stato ampiamente sottolineato, attendiamo che dal commissario giungano notizie positive. L'obiettivo è sempre quello del 30 di settembre? Sì, l'obiettivo resta il mese di settembre, poi vedremo se sarà il 30, sarà il 15, sarà il primo. Insomma su questo c'è ancora un po' di tempo, dobbiamo pensare ora a vaccinare e a lavorare.